Sotto assedio, un fortino di luci, di vetrine allestite a festa, un tripudio di colori. Dentro, la sicurezza, controlli serrati, gallerie pulite, una piccola cittadella dove girano cittadini spensierati. Fuori, ai margini del parcheggio, la sporcizia, il degrado. Sono anni che alcune famiglie nomadi vivono in camper fermi sulla strada di fronte al centro commerciale Palladio. La spesso stazionano con i loro camper o dietro questi cartelloni pubblicitari fronte strada o anche alle volte sempre sulla statale di fronte all'ingresso nostro principale. Sono anni che viviamo in questa situazione, con queste persone che non sono gradite perché si comportano in maniera inaccettabile. Vivono di microcriminalità, forzano le auto, danno fastidio ai clienti e in più entrano nella nostra struttura e si rendono protagonisti di cose inarrabili. Ci sporchiano i bagni, fanno dei piccoli furti, danno fastidio ai clienti e insomma non è accettabile. Stamattina l'ultimo episodio. Alcuni ragazzi vengono sorpresi da un carabiniere fuori servizio mentre forzano un furgone nel parcheggio del centro commerciale. Lì è intervenuto e si è trovato di fronte due minori nomadi che lo hanno aggredito e gli hanno tirato addosso questa bicicletta. Avevano una forbice che volevano colpirlo e lui si è difeso. Sul posto interviene la sicurezza privata del centro commerciale. Viene chiamata una pattuglia dei carabinieri. Scatta la caccia agli aggressori. Poi è stata chiamata la pattuglia dei carabinieri che è arrivato dopo dieci minuti. Loro hanno fatto un intervento sia nei camper che tutto qua al centro. Hanno fatto un giretto per vedere se riuscivano a trovarli. Invece è stato in vano perché non li hanno trovati che sono scappati non si sa dove. Essendo stato aggredito addirittura un carabiniere in borghese fa l'episodio un po' più importante. Per noi è il quotidiano. Tutti i giorni è una continua battaglia con queste persone che assolutamente vengono a disturbare e a crearci problemi all'interno del centro. Abbiamo bisogno di aiuto. Chiunque possa avere potere in questo senso deve assolutamente fare qualcosa e ci deve aiutare. Ogni giorno succede qualcosa. Dal microfurto, dalla forzatura dell'auto, eccetera. Non possiamo più tollerare questa situazione. Vi prego aiutateci e rapidamente. Grazie.